Si è svolto l'incontro con l'ambasciatore della Rete delle Città Marciane, Albano, a Cellino San Marco. In rappresentanza del sindaco e dell'amministrazione comunale ha partecipato il consigliere comunale Gianmarco Rodio, accompagnato dal parroco Don Pasquale Gargione. La Rete delle Città Marciane, di cui Castellabate e Comune Capofila, è un progetto che mi sta particolarmente a cuore. L'incontro di oggi con l'ambasciatore della Rete delle Città Marciane, Albano, ha suggellato ancora più questo patto di amicizia tra diverse comunità nel nome di San Marco. Mi è dispiaciuto molto non poter partecipare a questo incontro interessante e piacevole, dichiara il sindaco Marco Rizzo. È stato un onore rappresentare il sindaco e l'amministrazione in questa occasione davvero assai piacevole. È stato un momento di aggregazione il ritrovo dei rappresentanti di altre città marciane. Siamo stati accolti calorosamente a Cellino San Marco. Ricambieremo senz'altro. L'ambasciatore è stato omaggiato di una targa del comune di Castellabate, accompagnata da un invito ad essere il nostro ospite al più presto, affirma il consigliere Gianmarco Rodio. Allora, a tutti voi di Castellabate, un grande abbraccio, un bel carico di felicità e fatene l'uso che volete e soprattutto un arrivederci a presto, mi auguro. Un abbraccio e a presto. Ciao, Albano.